Quindi amore, allora che stasera cosa facciamo? Non lo so, non mi ricordi. Io stavo pensando a un ristorantino, credo che è stato andato la prima volta che ci siamo conosciuti. Sì, ma ti ricordi che è San Valentino? Sì, ovvio che mi ricordo questo momento. Ok. E stavo anche pensando di farti un regalo. Aspetta, 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 però... Scusa, ma cosa stai facendo? Io? Io non ho una parola. Amore, a te! Amore, dai! Grazie.